anzitutto buon 2021 e nell'augurare di questo oggi vi parlerò di una cosa particolare vi ho qui fatto vedere una riproduzione di una stampa dell'epoca questo nostro lungo percorso nel quale cerchiamo di capire gli appuntamenti che l'uomo ha avuto nel rapporto con la montagna e che lo ha portato poi alla scoperta del monte bianco e quindi alla sua salita oggi parliamo di un'epoca intorno al 1600 epoca nella quale c'è una rivoluzione scientifica un nuovo modo dell'uomo di rapportarsi alla vita alla scoperta e alle conoscenze di cui tra l'altro nel libro parleremo in un capitolo specifico ma tuttavia le alpi comunque rappresentano nell'immaginario collettivo per secoli fino a addirittura la metà del settecento e quindi al secolo dei lumi sostanzialmente di cui parleremo più avanti rappresenta diciamo la dimora e il posto che è frequentato e animato da una sorta di animali strani di draghi e animali di questo genere ma attenzione non si pensi che questa sia solo una credenza popolare assolutamente no riguarda l'intera popolazione anche l'intera popolazione scientifica dell'epoca del 1600 gli scienziati si occupano di questa cosa non come una credenza popolare ma come un'assoluta certezza che questo sia e cioè che le montagne siano abitate da draghi di varia genere natura uno scienziato svizzero giacol scherzer che tra l'altro una cosa particolare zurichese che nasce nel 1672 e muore 101 anni dopo un avvenimento incredibile per quell'epoca questo scienziato che fa un'opera importante itineria alpina nella quale tra l'altro analizza tutti gli aspetti della meteorologia delle alpi della zoogia delle alpi della botanica della mineralogia è un personaggio scientifico significativo che produce qualcosa di importante a contatto con tutti i suoi colleghi dell'epoca lui è uno dei degli sponsor più importanti e dei autori che divulgherà moltissimo le scoperte e le teorie di newton newton che poi ricambia questo scienziato addirittura finanziando itineraria alpina nelle tavole che disegnano i draghi in itineraria alpina questo scienziato oltre a raccontare di tutti questi aspetti delle alpi farà anche una vera e propria studio approfondimento e classificazione dei draghi ne citerò solo alcuni il drago alato il drago dalla lingua bifida il drago dal corpo di serpente ma lo fa partendo da un aspetto scientifico quindi un'analisi una ricerca una ricerca di testimonianze una serie di spedizione alla ricerca di testimonianze alla ricerca di prove salirà è uno con un fisico molto limitato ma salirà anche lui il monte pilatus e in questa itineraria alpina che viene pubblicata tra l'altro l'om dal 1708 e che ha una diffusione così importante ci sono anche tutta una serie di figure di rappresentazione in questo la sua diciamo non tanto ossessione ma il suo interesse suo grande interesse sui draghi nelle alpi non nasce a caso nasce perché ad un certo punto della sua esistenza lui nota che su tutta una serie di edifici pubblici di zurigo compare la figura del drago rappresentata nei diversi secoli che precede è una figura di questo genere non può non non cogliere l'attenzione dello scienziato ma come ci sono testimonianze sempre dei draghi vuol dire che qualcosa c'è e poi scopre che nel museo di lucerna viene custodito quello che è un gioiello mineralogico estratto dalla testa di un drago tra l'altro di questo lui dirà per estrarre questo gioiello e perché rimanga tale necessario che il drago non sia sveglio ma sia dormiente per fare questo bisogna addormentarlo con degli elementi saporiferci oppure fare e produrre un incantesimo solo in questo modo la pietra che viene preso dalla testa del drago può essere utilizzato come un portento rimedio per alcune delle malattie più importanti dell'epoca che erano la peste la disenteria i veleni che erano diffusi l'emorragia di epitassi questo naturalmente può far nascere qualche sorriso inevitabilmente non era così nell'epoca di cui gli va data atto di aver affrontato questo tema nel mondo delle alpi con un carattere scientifico e non dimentichiamo che tra l'altro questa credenza dei draghi questo modo vale rimarrà fin quasi alla fine del settecento vale a dire in pieno secolo dei lumi quindi le alpi al momento rappresentano ancora un elemento terribile abitato da creature terribili ciao